ciao a tutti dall'Etna siamo giunti al 3 ottobre e le ricerche continuano anche se dopo il lavoro qui siamo in un bellissimo bosco dell'Etna vediamo che a causa del freddo e delle temperature quanto meno che si iniziano a abbassare stanno iniziando a spuntare i chiodini qua c'è una bella famigliola di chiodini però i porcini ancora esistono resistono qui ce n'è uno un po grandetto lo stacchiamo ma sembra ancora che possa andare e per essere diciamo le 14 dopo lavoro anzi mi sto divertendo qualche altro bellino l'ho preso dei dei porcini sono non sono tantissimi per lo meno al momento però diciamo che qui il bosco mi sta premiando c'è un bell'Ereus e lì c'è il fratellino ciao ciao lo stacchiamo ecco qua bell'Ereus freschissimo va bene con questo è tutto vi saluto e al prossimo aggiornamento